5 fumate nere ieri in Parlamento per eleggere i presidenti di Camera e Senato, solo i grillini votano i propri candidati. Napolitano Stoppa Monti, resosi disponibile per Palazzo Madama. Il PDL si tira fuori oggi giornata decisiva con due esponenti del PD, Finochiaro e Franceschini, in campo per le presidenze di Montecitorio e Palazzo Madama. La difesa di Berlusconi chiede che i suoi processi vengano spostati a Brescia perché nel Tribunale di Milano il clima è ostile. Invocata la legittima suspicione per i procedimenti Rubi e Mediaset, le cui sentenze sono previste entro la fine di marzo, ma ora forse slitteranno. La parola passa infatti alla Cassazione, intanto il Cavaliere ha lasciato l'ospedale San Raffaele. Diciamo no al pessimismo, così ieri Papa Francesco ai Cardinali. Il Pontefice oggi incontrerà i giornalisti, mentre per il suo insediamento di martedì a Roma si attende un milione di fedeli. Intanto il Vaticano ha difeso Bergoglio dal farmo argentino, non fu mai vicino alla dittatura militare, precisa padre Lombardi. Calcio e il Bologna, l'ostacolo di questa sera per la Juventus nella corsa allo Scudetto. I bianconeri ieri hanno pescato il Bayern di Monaco nei quarti di finale della Champions League. Rugby l'ultima giornata del 6 nazioni, l'Italia sfida l'Irlanda, la partita sulla 7 dalle 18. Buongiorno, benvenuti alla prima edizione del telegiornale della 7, in primo piano la politica. Ieri il primo giorno della 17esima legislatura. Come era previsto, non è stato trovato l'accordo sui presidenti delle Camere. Le votazioni riprenderanno stamattina. Sentiamo. Si riparte alle 11, tra tre ore e mezza in contemporanea la Camera e al Senato, con buone probabilità di tagliare il traguardo entro la mattinata a Montecitorio, mentre a Palazzo Madama il nuovo presidente dovrebbe saltar fuori nel pomeriggio. Sui nomi, però, è ancora buio fitto perché il piano Bersani, da aspettare fino all'ultimo i grillini, non ha avuto esito e a questo punto la partita si è riaperta completamente. Ieri le cinque votazioni, tre a Montecitorio e due al Senato, sono finite in modo simmetrico, con i grillini che hanno insistito sui loro candidati, Roberto Fico per la presidenza della Camera e Luisa Alberto Orejana per quella del Senato, mentre tutti gli altri hanno votato scheda bianca. Il PD tra mezz'ora, la convocazione per le 8 e un quarto di questa mattina, riunisce i gruppi parlamentari con Bersani che riferirà sulle febbrili trattative andate avanti per tutta la notte. Difficile sia riuscito ad aprire una breccia nel muro dei Cinque Stelle. Ancora ieri sera Grillo su Twitter metteva sullo stesso piano PD e PDL definendo da Buffoni la scelta della scheda bianca. Pontiere dell'ultima ora si è proposto Nichi Vendola a favore di un atto unilaterale del centro-sinistra a appoggiare il candidato grillino alla Camera senza chiedere niente in cambio. Apertura allo scoperto che non ha raccolto molti consensi nel PD, ma anche le alternative non sembrano in discesa. Ieri sera il Premier Monti ha incontrato al Quirinale Napolitano. Al Capo dello Stato Monti avrebbe proposto un suo progetto. Dimissioni da Premier per farsi eleggere alla guida del Senato e poi tornare a Palazzo Chigi per fare il bis con un nuovo governo delle larghe intese. In questo caso però, oltre ai dubbi di Napolitano, ci sarebbe anche l'indisponibilità di Bersani che ieri sera, dopo l'ultimo voto, nei corridoi di Montecitorio si è confrontato con alcuni fedelissimi in un colloquio allargato, anche a Casini. Nel PD il piano B rimane a questo punto quello di fare da soli, con Franceschini alla Camera e Finocchiaro al Senato. Proprio la Finocchiaro, come seconda carica dello Stato, potrebbe ricevere l'incarico di formare un governo istituzionale con alcuni obiettivi mirati. Ipotesi tutte sul tavolo per sapere come finirà, però non dovremmo aspettare ancora molto. Al massimo entro questa sera conosceremo i nomi dei presidenti di Camera e Senato, poi si giocheranno le partite anche per Palazzo Chigi e il Quirinale. E dunque ieri è stato il primo giorno della nuova legislatura, molti i volti nuovi ma ci sono anche vecchie conoscenze. Vediamo. Un esercito di facce nuove, che commessi parlamentari, giornalisti e fotografi faticano a identificare, varca i portoni di Palazzo Madame Montecitorio, il primo giorno della diciassettesima legislatura. È il Parlamento più giovane e più rosa della storia d'Italia. Mai l'età media è stata così bassa, mai così tante donne sono diventate deputate e senatrici. È l'effetto del boom del Movimento 5 Stelle, delle primarie del PD, del rinnovamento radicale di tutti i gruppi parlamentari. Gli occhi sono puntati sulla novità assoluta, i parlamentari grillini, decisi a rifiutare il titolo di onorevole e a farsi chiamare cittadini. Cittadina tutta la vita. Entusiasmo da debutto, c'è chi si fa le foto ricordo, fuori e cosa vietata ma straordinariamente tollerata, dentro il Parlamento, chi si fa accompagnare dalla famiglia. Grillini comunque elige al cerimoniale, indossano la cravatta non solo al Senato ma anche alla Camera dove basterebbe la giacca. Alcuni ne mettono una con sulla scritta no carbone, non sono gli unici a puntare sull'accessorio identitario. I parlamentari di Sinistra, Ecologia e Libertà hanno un braccialetto bianco antimafia dell'Associazione Libera. Nelle aule dei deputati e senatori grillini si piazzano quasi tutti nelle file in alto negli emicicli, senza scegliere tra destra, centro e sinistra. Gesso simbolico spiegano, siamo in alto così controlliamo tutto, abbiamo il fiato sul collo degli altri. Al Senato spunta anche un apriscatole, Grillo lo aveva promesso, apriremo il Parlamento come una scatoletta di tonno. A Palazzo Madama per siedere la seduta è il senatore a vita Emilio Colombo, a Montecitorio è l'ex vicepresidente Anziano Leone, PDL. Entrambi salutano l'elezione del nuovo Papa Francesco, cui ha tributato un lungo applauso. Non tutti i 5 Stelle si alzano in piedi. Ma ci sono ovviamente anche facce note, tra i banchi del PD e la Camera c'è il volto dell'ex segretario CGL, Guglielmo Epifani, emozionatissima per la sua prima volta Laura Boldrini dall'incarico ONU per i rifugiati e i banchi di SEL. C'è Bossi che polemizza con Maroni che non ha lasciato il partito come aveva promesso, evidentemente è il culo grande, attacca il Senatur. C'è l'ex governatrice del Lazio Polverini, PDL, emozionata, spiega come il primo giorno di scuola. L'ex governatore della Lombardia, anche lui, PDL, Formigoni e al Senato, come l'ex direttore del TG1 Minzolini, Scilipoti e per il PD, il vice direttore del Corriere della Siera Mucchetti e l'ex procuratore antimafia Piero Grasso. A Palazzo Madama ci sono i big centristi, Casini e Monti, senatori a vita, che entra per ultimo ed esce subito dopo le votazioni del mattino per andare a pregarli nella Basilica di Santa Maria sopra Minerva. Ieri intanto Silvio Berlusconi lasciando l'ospedale San Raffaele dopo una settimana ha detto che il PDL non farà accordi con nessuno ed è tornato sui processi chiedendone lo spostamento a Brescia perché al Tribunale di Milano il clima è ostile. Sentiamo. Niente viaggio oggi a Roma ma un fine settimana di convalescenza ad Arcore. Silvio Berlusconi cambia così i suoi programmi dopo una settimana di ricovero al San Raffaele per un'infiammazione agli occhi. Mi hanno dato i due giorni di permanenza ad Arcore. La partita scacchi per le presidenze delle Camere sta per entrare nella sua fase culminante dopo le fumate nere di ieri. Ci chiamiamo fuori dalle spartizioni, dice il Cavaliere in una nota diffusa in tv concessa poco prima di uscire dall'ospedale. Ma è chiaro che sono dichiarazioni di facciata visto l'evolversi continua della situazione in cui il PDL ha seguito la stessa strada del PD e dei centristi, ovvero scheda bianca. Berlusconi se la prende poi con il PD. Sono irresponsabili in questa situazione difficile per il Paese. Hanno respinto la nostra ripetuta disponibilità per garantire un governo al Paese. L'ex Premier resta in attesa dunque e non si espone, anche perché in gioco c'è un'altra partita importante, quella per il Quirinale, e non nasconde il timore di restare fuori dalla scelta del successore di Napolitano. Evitare insomma una situazione fotocopia del 2006. Berlusconi deve intanto giocare un'altra partita complicata, quella con i magistrati milanesi che lo ottengono in aula. I suoi legali hanno presentato istanze per spostare i processi Rubi e Mediaset, giunti ormai alle ultime battute da Milano a Brescia. Ghedini e Longo si appellano alla cosiddetta legittima suspicione, norma varata dieci anni fa proprio dal governo Berlusconi, in cui si parla espressamente di gravi situazioni che possano turbare lo svolgimento di un processo. Sarà la Cassazione a decidere, in prima battuta, sulla ammissibilità o meno delle istanze. Il tempo stringe e il Cavaliere non vuole farsi mettere all'angolo, ecco perché scende in piazza e prepara una nuova manifestazione del PDL per sabato 23 a Roma. Lo slogan è inequivocabile, tutti con Silvio. Nella notte a Bruxelles i ministri delle Finanze dell'Unione hanno raggiunto un accordo per un piano d'aiuti a Cipro. La cifra stabilita è di 10 miliardi, una somma inferiore rispetto ai 17 miliardi e mezzo che erano stati chiesti. Nel piano è prevista anche una tassa straordinaria sui depositi bancari nelle banche cipriote, fino al 9,9%. Il governo dell'isola dovrebbe così recuperare quasi 6 miliardi di euro. Il Fondo Monetario Internazionale, da parte sua, dovrebbe contribuire al piano di salvataggio con un miliardo di euro. Restiamo nell'economia. L'arme di Draghi sulla produttività italiana è ai minimi fra i big dell'Eurozona. E Confesercenti aggiunge, nel nostro paese chiudono 167 negozi al giorno. Ha fatto lezione ai grandi d'Europa Mario Draghi, come ormai gli capita di sovente, e tra una scheda e l'altra ha pronunciato una frase che mette i brividi. Bisogna rivisitare i mercati dei prodotti e del lavoro per vedere se sono compatibili con la partecipazione all'Unione monetaria. Come dire, per entrare nell'euro c'erano dei parametri che la crisi ha fatto saltare. Ora non tutti si meritano di stare dentro. Delle conseguenze Draghi non ne parla né su chi ha puntato l'indice. Tuttavia si dilunga proprio sulla produttività, in particolare quella italiana. La crescita della produttività in Italia è ai minimi fra i big dell'Eurozona, spiega. Ed in particolare ci sarebbe un gap con gli stipendi troppo alti, dato sul quale probabilmente gli italiani avranno molto da ridire. E tuttavia Draghi indica come necessaria è proprio la riforma dei contratti per i paesi, con pressanti problemi di competitività. Il precedente governo Monti in parte ci aveva messo mano, ma forse per la BCE non basta. Draghi ha anche una seconda cura, la revisione delle liberalizzazioni per una piena realizzazione del mercato unico. Anche qui la memoria corre ai mesi recenti con le liberalizzazioni montiane, vi ricordate i taxi e le farmacie. Il punto è che Draghi non spiega cosa intende per riforma dei contratti, in particolare per l'Italia o forse la spiegazione è rimasta in camera caritatis per i leader dell'Euro. Certo rimane un forte dubbio, più che limare gli stipendi per allinearli alla produttività decrescente, sembra più il caso di fare l'opposto, stimolare la crescita per produrre di più ed allinearla alle remunerazioni, visto che nell'impoverimento generale dell'Italia di questo ultimo anno lavorare sui redditi significa deprimere ancora di più i consumi e di conseguenza proprio la produzione e l'occupazione. Non cedere al pessimismo e donare la propria sapienza ai giovani, questo è l'invito di Papa Francesco ai cardinali. Stamattina il Pontefice incontrerà la stampa, intanto il Vaticano difende Bergoglio dalle accuse di connivenza con la dittatura argentina negli anni 70 e 80. Sentiamo. Non cediamo mai al pessimismo, a quella amarezza che il diavolo ci offre ogni giorno. Non cediamo. Inizia a far sentire la sua voce Papa Francesco, neopontefice, lo fa senza negare espressioni sorridenti, lo fa muovendosi molto, diventando quasi informale. Ieri nella sala clementina in Vaticano con i suoi fratelli cardinali, gli stessi che Josef Ratzinger chiamava signori, il Papa ha condiviso a braccio i momenti scherzosi e comunque inconsueti per le stanze pontifice, come quando ha indossato in modo del tutto naturale un braccialetto di gomma giallo donatogli da un porporato sudafricano. Prima aveva nuovamente salutato Benedetto XVI, che incontrerà nelle prossime ore, e poi è voluto uscire dalla città del Vaticano per andare a trovare un cardinale, anche lui argentino, ricoverato in una clinica romana a causa di un infarto. Ma quella di ieri, per la santa sede del nuovo corso, è stata anche una nuova giornata di battaglia mediatica che, stravolgendo le consuetudini, i vertici della Chiesa, hanno deciso di combattere all'attacco e non in difesa. Un inedito da inquadrare forse in un'apparente nuova strategia della trasparenza oltre Tevere. Ecco quindi il commento alle recentissime polemiche sul ruolo di Jorge Mario Bergoglio ai tempi della dittatura in Argentina, perché stavolta la santa sede sceglie di non tacere, di non chiudersi nel silenzio, e allora risuonano ferme, anche severe, le parole pronunciate dal portavoce, come il Papa anche lui gesuita, padre Lombardi. La matrice anticlericale di questa campagna e di altre accuse contro Bergoglio è nota ed evidente. L'accusa si riferisce al tempo in cui Bergoglio non era ancora vescovo, ma superiore dei gesuiti in Argentina, e a due sacerdoti che sono stati rapiti e che lui non avrebbe protetto. Questa era l'accusa. Uno dei due preti è morto, l'altro, Francesco Jalix, oggi vive in un monastero nel sud della Germania. Per lui parla questa nota diffusa oggi su internet. Sono riconciliato con il passato. Auguro a Papa Francesco la benedizione di Dio. E sta diventando sempre più un caso internazionale la vicenda dei due Marocchi. L'Italia ha deciso di non far rientrare in India. Il governo indiano ieri ha inviato un ordine a tutti gli aeroporti del paese. L'ambasciatore italiano non deve partire. Sentiamo. Limitare la libertà di un ambasciatore è un fatto inaccettabile contro ogni regola del diritto internazionale. È scritto nella Convenzione di Vienna, firmata anche dall'India, e lo ribadisce la Farnesina, preoccupata per Daniele Mancini, bloccato a New Delhi dal governo indiano, che esige chiarimenti sul mancato rientro dei due fucilieri italiani accusati di avere ucciso per errore due pescatori del Kerala. È di ieri, infatti, la notizia che tramite un avviso del Ministero dell'Interno tutti gli aeroporti indiani sono stati allertati affinché il nostro diplomatico venga bloccato qualora tentasse di imbarcare su un volo che lo allontani dalla capitale. Un fatto finora non smentito da nessuno, nonostante il Ministero degli Esteri di New Delhi si sia affrettato a puntualizzare che Mancini è libero e in virtù del suo status non può essere arrestato in alcun modo. Mancini, spiegano le autorità, si è fatto garante per la licenza concessa a Salvatore Girone e Massimiliano Latorre ed è lui che adesso deve rispondere in prima persona della decisione del governo italiano di non far rientrare in India i due Marò che devono essere appunto processati con l'accusa di omicidio. E queste sono le inevitabili ripercussioni, dicono, di una vicenda che è diventata un vero e proprio caso diplomatico, oltre che politico. E a testimoniare della crescente tensione tra i due paesi c'è lo stesso sito internet della Farnesina, Viaggiare Sicuri, dove si raccomanda grande prudenza agli italiani che in questo momento si trovano in India. Tenetevi lontani da eventuali assembramenti, in particolare nello stato del Kerala, avverte da Roma il Ministero degli Esteri. E siamo allo sport con il calcio. Ieri il sorteggio delle Coppe Europee. La Juventus in Champions League ha pescato il Bayern Monaco. In Europa League la Lazio invece ha pescato i turchi del Fenerbace. E oggi torna il campionato con due anticipi della 29esima giornata, Catania-Udinese e Bologna-Juventus. Ibrahimovi ci ritrova il Barcellona, super sfida contro il suo passato, e le omessi Terim contro Mourinho promette scintille. Dortmund e Malaga rappresentano la novità, con giovani di grande talento in vetrina, ma soprattutto Bayern Monaco-Juventus. Il sorteggio Champions per i bianconeri poteva andare meglio, gli evitate le spagnole. Conte pesca la terza big d'Europa, così dopo aver superato il Chelsea nel girone, alla Juventus tocca la seconda finalista dello scorso anno. Andata a Monaco il 2 aprile, tre giorni dopo il derby d'Italia con l'Inter. Ma per Conte l'imperativa alla squadra è pensare a ciò che sarà questa sera contro il Bologna, e non a ciò che verrà. Il campionato incombe, il tecnico bianconero chiede ai suoi di mandare ancora un altro messaggio al campionato della serie. Antenne dritte e non abbassare la guardia davanti al Bologna di Pioli in un ottimo momento di forma. Tra i rosso-blu rientra dalla squalifica con E, Juve con la formazione tipo, Vucinic con Giovinco in attacco, anche se non è escluso l'impiego di Matri. Catania Odinese alle 18 aprirà la 29esima giornata. E oggi si conclude il 6 Nazioni di Rugby. L'Italia affronta l'Irlanda allo Stadio Olimpico di Roma differita sulla 7 a partire dalle 18, con il barone Andrea Locicero che dà l'addio alla maglia azzurra dopo oltre 100 presenze. Vediamo. Ci sarà uno Stadio Olimpico tutto esaurito per spingere gli azzurri verso uno storico traguardo, quello di battere per la prima volta in questo torneo la temibile Irlanda conquistando un piazzamento che renderebbe questo 6 Nazioni il migliore per l'Italia. Siamo stati veramente vicini di magari fare un risultato storico a Twickenham, quindi è lo stesso atteggiamento che dobbiamo avere domani. Poi alla fine vedremo quale sarà il risultato e faremo anche una conclusione di quello che è stato i nostri 6 Nazioni. Per l'ultima sfida del torneo l'Italia è chiamata a ripetere l'ottima prestazione vista a Twickenham con l'Inghilterra. Una gara convincente dal punto di vista del gioco e soprattutto della personalità, in sostanza quello che chiede il CT Brunel, predicando quella continuità che finora è mancata agli azzurri. Non ci sarà Castro Giovanni che non ha recuperato dal trauma muscolare rimpiazzato da Lorenzo Cittadini in prima linea. Tornano Favaro e Furno dal primo minuto. L'Irlanda, guidata dal fuoriclasse Odriscol, forse alla sua ultima apparizione al 6 Nazioni, ha una difesa molto ben strutturata e la capacità di segnare. Nel primo tempo contro il Galles ha messo a segno 30 punti e non ha subito mete contro la Scozia e l'Inghilterra. Quella di oggi sarà anche l'ultima partita in nazionale per Andrea Locicero che a 37 anni lascia il rugby con il record di 103 presenze azzurre, 4 mondiali e una carriera indimenticabile. Ieri all'annuncio dell'addio il barone non ha trattenuto le lacrime. Penso che sia anche il momento giusto che questa giacca me la levo io e non me la faccio levata da nessun altro. E c'è un aggiornamento di sport che arriva dall'Australia. Domani comincia il Mondiale di Formula 1 2013. Hanno preso il via però con 30 minuti di ritardo rispetto al previsto le qualifiche del Gran Premio australiano. Prima gara appunto del Mondiale. La pioggia insistente sul circuito dell'Albert Park di Melbourne ha indotto la direzione della corsa a rinviare la sessione per motivi di sicurezza prima di 10 minuti, poi di altri 10 e infine di 30 minuti dando il via alle prove ufficiali alle 17.30 locali. Allora per tutti gli aggiornamenti vi ricordo come sempre il nostro sito tra poco il Meteo in compagnia del colonnello Giuliaci poi a seguire il dibattito di Omnibus con Andrea Pancani. Buon proseguimento.